Il Gela si aggiudica la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, battendo per 1-0 in zona Cesarini-Alcamo. Il gol è stato realizzato dall'attaccante Salvatore Mincica, biancazzurri imbottiti di giovani per tutta la gara. Dentro Asia, Ascerra, Satorini, Iannizzotto, Cosentino. In panchina i Big, Alma, Bonafini, Nassi. Nonostante i tanti under in campo e contro un Alcamo che ha schierato la formazione quasi titolare, il Gela ha giocato bene nel pieno tempo e in più di un'occasione avrebbe meritato il vantaggio con Floridia. La rete della vittoria, come dicevamo, è arrivata però a tempo quasi scaduto con Mincica, bravo a farsi trovare pronto nell'area di rigore avversaria e a piazzare dentro la rete del meritato vantaggio. Ministro, una vittoria di misura contro un Alcamo che diciamo che era venuta a Gela con l'intenzione di vingerla questa partita. Sì, penso che abbia messo gli undici titolari che giocano la domenica. Penso di aver fatto un ampio turnover a Rioja. Ma con questo i ragazzi hanno fatto una grande partita. Sono molto soddisfatto sotto l'aspetto del gioco, per come hanno interpretato la gara, affrontando un avversario che ha un'ottima interlaggiatura. Forse anche nel primo tempo potevamo sbloccare il risultato, abbiamo avuto diverse occasioni di sblocchiarla. Penso che c'era un calcio di risultato di rigore sacrosanto, non dato. Poi nel secondo tempo è normale, i ragazzi hanno giocato poco, per cui hanno poco minutaggio nelle gambe e qualcuno ha accusato la fatica. Poi diciamo con i cambi, la squadra ha avuto una marcia in più e credo è questo che ha cambiato molto la partita. Tanti giovani in campo, bravo Iannizzotto, bravo Sotorini, bravi Scerra, un po' gli under che sono andati in campo sono stati veramente bravi. Sì, volevo fare un appunto importante con questa crescita dei ragazzini, non dimenticando anche il ragazzino Acia ha fatto pure una discreta partita. Per cui sono molto contento che queste ragazze si stanno applicando abbastanza bene, stanno lavorando, hanno capito che significa la cultura del lavoro. Purtroppo oggi era importante superare, non dico superare il turno, ma vincere la partita soprattutto per il fatto di domenica. Sappiamo benissimo che è una squadra molto tecnica e oggi lo ha dimostrato, non è che dimentica di giocare al calcio. Sono molto contento dei progressi sotto l'aspetto tecnico-tattico. Buona la prova del giovane under Giorgio Iannizzotto. Abbiamo fatto una grande gara, siamo riusciti a vincere questa partita anche con alcune difficoltà. Sono molto soddisfatto per questa mia prima partita da titolare.